la situazione delle gomme è interessante ma credo che sia meglio mantenere quelle che abbiamo adesso ottima prestazione stai recuperando terreno sulla vettura davanti a te a un ritmo di un secondo a giro a Questa pioggia leggera potrebbe accompagnarci a lungo. Questa pioggia leggera potrebbe accompagnarci a lungo. La carica della batteria è a posto. Aumentiamo l'erogazione delle RS per migliorare il ritmo. Il tuo distacco dalla vettura che ti segue aumenta di un secondo a giro. La carica della batteria è stata costruita a lungo. Stacco dall'auto dietro. 32,1 secondi. Ok, distacco dal pilota in testa, 12,2 secondi. Adesso capisco come si sente all'unso in questo motore. Stacco dall'auto dietro. Il distacco dalla vettura dietro di T è 35,7 secondi. Stacco dall'auto dietro. 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 Grazie a tutti. Il distacco da quella dietro è 37,4 secondi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alcune pozzanghere stanno scomparendo. Per il momento queste gomme vanno ancora bene, ma tra non molto le condizioni potrebbero essere adatte a quelle da asciutto. Grazie a tutti. L'auto dietro di te dovrà scontare dei secondi di penalità. Se cerca di passarti lasciala fare, non vogliamo problemi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri cinque giri. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Grazie a tutti. 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 Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.